La squadra volante della Questura dell'Aquila, coordinata dal dirigente il dottor Roberto Mariani, ha arrestato un cittadino romeno ieri sera per maltrattamenti in famiglia. A segnalare l'episodio in Questura una telefonata al 113 che parlava di una violenta lite che coinvolgeva una donna. Gli agenti della volante, arrivati a Bazzano nel progetto case, hanno notato una ragazza straniera con ecchimosi sul volto, molto spaventata, che tentava in vano di difendersi dalla furia dell'uomo. I poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti ad allontanare l'aggressore dalla donna e a prestare soccorso alla ragazza, che è stata poi portata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per le cure del caso. Dai riscontri effettuati dalla polizia è emerso che l'uomo, un 49enne rumeno, da diverso tempo, da ben tre anni per l'esattezza, era solito avere questi atteggiamenti intimidatori nei confronti della sua convivente. La donna infatti era già stata vittima di minacce ripetute e percosse anche in altre occasioni, era stata oggetto di cure mediche.